Il gioco si fa greve con la complicità della nebbia che lo occulta l'arbitro. La ripresa rincala le dosi che per Tognon diventano massicce. Questo sì che si chiama a scontare una partita con lacrime di sangue. Malgrado la nebbia l'arbitro vedrà abbastanza per espellere tre giocatori. Mancati quattro gol, uno su rigore, l'Atalanta commenta il nuovo proverbio, chi mal comincia? Punizione di Tognon, salto nel nulla di Calapellese Raci, sinistro di Pulicelli, gol! Il Milan ha vinto. Beh, quasi quasi l'orologio te lo sei meritato Pulicelli. Signore, specchiatevi sullo schermo. Chi si riconosce particolarmente interessata a farlo sarà la signora sul cui volto si poserà il cerchietto magico. Se ravvisi i suoi connotati basterà che si presenti alla Cassa del Cinema. Riceverà il trofeo in congiviello. Grazie. Grazie.